Come si prepara una partita del genere? Si prepara in maniera normale, è vero una partita speciale, ma allo stesso tempo una partita come le altre. Il nostro obiettivo è quello di andare avanti, lo vogliamo fare sia per la gente, che per il club, che per noi stessi. Ma non c'è pressione, come ho detto, la pressione è sempre su questa città, ma non lo prepariamo normalmente come abbiamo l'habitude di preparare le match.